Sostenere le maestranze che si sono viste annullare i contratti di secondo livello. Sia per il gestore la panoramica che in mancanza di adeguati finanziamenti da parte della regione rischia di non poter sostenere gli investimenti fatti. Così il sindaco Diego Ferrara ha chiesto l'intervento dei consiglieri regionali e referenti per Chieti per trovare una soluzione soprattutto economica in modo da affrontare con serenità le situazioni mobilità e trasporti. dare un contributo che non sia un contributo spot ma che vada per almeno tre anni a favore del trasporto pubblico locale di Chieti in maniera tale che ambedue questi attori, quindi sia gli autisti che la panoramica stessa, possano vivere più tranquillamente. La problematica è già da tempo risolta, dice il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo. Dopo l'incontro con l'assessore regionale al bilancio Liris e con il sottosegretario alla presidenza con delega trasporti De Annuntis ho ricevuto ampie rassicurazioni. Il comune di Chieti infatti beneficerà di un contributo di 400.000 euro indirizzato alla panoramica destinato ai lavoratori per la contrattazione di secondo livello. Prima però bisogna attendere il consiglio regionale del prossimo 14 dicembre. Questo contributo, nonostante il consigliere Febbo dica di averli già in tasca, non sappiamo ancora nulla. Come comune non possiamo risolvere le problematiche economiche, né tantomeno a livello sindacale dell'azienda stessa. Grazie. Grazie.